La ASC Franchi Laser, da oltre 30 anni, è leader nel settore della piccola e media carpenteria. La continua ricerca e il costante rinnovamento ci permette di mettere a disposizione della nostra clientela esperienza ed alta tecnologia. Grazie a speciali software e personale altamente qualificato, siamo in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Dalla realizzazione del singolo pezzo alla grande produzione, senza problemi di forme e materiali. Operiamo in tutti i settori, dalla carpenteria con il taglio laser, piegatura, punzonatura e saltatura, al design d'arredo interno ed esterno, grazie anche al taglio Waterjet 2D-3D, per arrivare alla personalizzazione di qualsiasi oggetto attraverso la marcatura laser. ASC Franchi Laser, un partner affidabile. Ci trovi a Proserpio, nella zona industriale, in via Fratelli Rizzi 12. Dal 15 al 17 febbraio saremo presenti alla manifestazione Fornitore Offresi, presso il centro espositivo Lario Fiere di Erba, nel padiglione A, stand 11-12.